Una scommessa all'insegna dell'arte e dell'amore per le periferie, due elementi che si compenetrano e che traggono ispirazione l'uno dall'altro. Il Teatro degli Intrepidi Monelli in Viale Santa Vendracia a Cagliari è una delle realtà artistiche più importanti del capoluogo, uno dei punti di ritrovo più significativi del Rione e non solo. Una realtà nata nel 2015 dall'impegno del direttore artistico Sergio Piano, che grazie alle sue iniziative ha lanciato giovani di talento, come Alessandro Cappai, e coinvolto artisti di assoluto rilievo come Giorgio Montanini, Simone Cristicchi e Laura Formenti. Questo progetto in Santa Vendracia nasce otto anni fa. Abbiamo pensato di creare uno spazio teatrale e culturale per il quartiere, visto che non c'è mai stato un teatro in questo quartiere e c'era l'esigenza e la voglia di creare qualcosa di artistico in questa zona nella città. Sono passati otto anni, abbiamo fatto tante cose importanti, oggi ci troviamo nella situazione di lottare per poter continuare ad andare avanti, nonostante le tante difficoltà, il passato, pandemia e compagnia bella, siamo ancora in piedi e stiamo cercando di portare avanti questo progetto. Continuare ad andare avanti rendendo il legame tra la cultura e il quartiere di Santa Vendraccia e marchio di fabbrica su cui costruire il futuro, con tanti progetti in programma. Allora sì, sicuramente la tredicesima edizione dei grandi votori del teatro nostri contemporanei e la prima edizione del Circo Letterario, festival di letteratura che molto probabilmente sarà a dicembre e poi tante risate con la stand-up comedy di cui gli intrepidi monelli a Cagliari sono stati gli apripista. Vi aspettiamo. E a proposito di attesa, sono tante le persone che aspettano i nuovi spettacoli pronti a farsi conquistare dalla magia del teatro, il quale nonostante il tempo che scorre è ancora capace di resistere, come affermato dal celebre attore Orson Welles, come un divino anacronismo.